CETA io avevo 7 anni quando lei è nata e dopo non l'ho parlato dopo forse era due o tre anni, non mi ricordo. E poi quando è nato scopriamo che la zia telefona è nato Alessandro ed è a Padova. Come a Padova? Io mi ricordo di quando è nato che sono nato a dormire dai miei nonni perché i miei aspettavano il momento di andare in ospedale con mia mamma e quindi... Praticamente siamo cresciuti insieme perché quando io avevo 5 anni lui ne aveva 10 però diciamo che era come se ne avesse 5 si può dire. Io lo vivevo come una cosa normale da piccolo, vabbè ho sempre vissuto come una cosa normale anche perché non è che c'è l'alternativa. I primi anni non lo capivo fino a magari 5 anni non capivo bene bene tutto quanto, la situazione, come erano. Dopo un po' sì ho capito, a quell'età un po' più grande, sapevo già che è la vita che avrei fatto per tutta la vita diciamo, non autonomo. Io mi sono reso conto che lei aveva qualche difficoltà insomma negli ultimi anni qua, negli ultimi anni quindi dopo tanto tempo comunque trascorso con lei o... Cioè è parte fondamentale della mia vita, ovviamente l'ha cambiata radicalmente come ho cambiato la vita dei miei genitori. Non l'ho mai capito bene all'inizio come era la situazione perché forse non davo tanto peso perché sennò ancora... sì era ancora piccolo infine perché erano ancora elementari così sapevo che c'era questa operazione da fare perché lei non stava bene e quindi però ho capito dopo, tutto dopo. Prima non riuscivo a rendermi conto. Insomma è anche quella cosa che lei sembra, sembra così, sembra così come me, come tutti e per me lo è. Per me lo è. Però vedendo le sue difficoltà, vedendo le sue difficoltà che non sono magari quelle mie, magari io ne ho altre che non mi impediscono certe cose, mi crea un po' il punto di domanda. Non è che da un momento all'altro mi sono reso conto, cavolo, mio fratello non è come il fratello del mio vicino di casa. L'ho percepita in modo diverso a volte questo appunto avere questa diversità nel senso che è innegabile insomma che a volte avrei voluto avere un fratello ma anche solo perché ci sono alcune cose nel rapporto tra fratelli che non sono state possibili cioè non è stato un compagno dei miei giochi nell'infanzia come invece tanti fratelli e sono stati compagni di giochi uno dell'altro per esempio. Cioè un fratello con la disabilità diventa una famiglia con una disabilità in famiglia cioè non è solamente il fratello per cui diventa una vita particolare ma ognuno ha le sue robe per cui non è che... Dopo aver capito quale fosse il suo problema mi sono appunto messa da parte cioè nel senso che poi c'è cominciato un lungo iter in cui mia mamma era sempre in ospedale con mia sorella e quindi ero a casa da sola con i miei nonni e non dovevo sentire la mancanza di mia mamma ma comunque mia sorella aveva sicuramente più bisogno di me, cioè di lei rispetto a me. Così allora i fratelli, eh sì e una sorella, ah è disabile e cosa... eh... Cioè a volte magari non voglio neanche dirlo perché se dico è disabile magari automatico è pensare ah devi essere una persona che ha sofferto oppure... e questo mi fa... mi da... cioè è un più per me. Però non è meritata questa cosa e quindi io non voglio... cioè vivo questa emozione. Adesso non so se si capisce, però si capisca. Quando invece il merito dei sacrifici va ai miei genitori perché io non è che abbia fatto sacrifici, diciamo... La realtà è quella lì e sì... anzi mi sento un po' viziato sotto un certo punto di vista perché i miei mi hanno dato anche... Cioè col timore che questo potesse essere una roba lesiva nei miei confronti mi hanno dato di più di quello che potevo aver diritto probabilmente. Cioè io ho un po' stai vero. Da piccola dici perché? Perché a noi, perché ad Ale e il vivere ogni intervento. Alessandro ha fatto undici interventi nei primi sei anni di vita. Quindi ogni intervento lo vivevi sempre lì aspettando il telefono che squillava. Parlare di lei è sempre un po'... sì mi risvegna un po' di emozioni insomma perché... cioè... Lei è il mio punto debole. C'è stato un periodo in cui io ho odiato mia sorella giustamente perché lei mi aveva tolto tutte le attenzioni dei genitori, ecco, quando ero più piccolo. Mi è capitato tante volte, magari anche ho pianto quando ero più piccolo perché se lui aveva delle cose poi io dicevo perché io no. Sì, certe... cioè parecchie volte mi è capitato. E vedere anche magari altre famiglie che hanno due fratelli, che magari condiviscono tantissime cose e... magari quello più piccolo si appassiona le cose di quello più grande. Mi piacerebbe essere come loro però se accetta quello che c'è nel senso che bisogna aiutarsi. Anche da piccolino vedevo che tutte le attenzioni andavano a lui. Diciamo che lui veniva prima di tutti, si può dire, il pensiero era di Michael e anche i nonni. E a me questa cosa seccava, no. Perché io mi chiedevo perché lui sia io no, no. Perché diciamo che a quell'età lì non erano ancora consapevoli. C'era un amore e odio da piccoli. Nessun po' meno. Perché era un attimo, no, passare da fare giocare a lotta a darsi veramente. Pure una volta abbiamo tipo uno skateboard a casa, no. L'ho montato in cima lo skateboard e l'ho spinto giù per una rampa così che c'è a casa mia. E stava saltando giù il tema di Luis dalla muretta. E una volta non sono riuscita a dire, ho sentito che li prendeva in giro, non sono riuscita a dire è mio fratello. E lì è stato uno di cui, cioè ce l'ho ancora in mente perché mi sento ancora in colpa. Nel senso non essere riuscita a dire che cacchio dite è mio fratello. Quindi, cioè, non è tutto amore. Cioè ci sono dei momenti in cui c'è anche la difficoltà, forse quando eravamo anche più adolescenti. Cioè adesso non avrei, anzi forse... Cioè è normale provare assolutamente rabbia, ovviamente. Perché non si può fare niente, perché non ci si può scontrare, perché la realtà è questa e non si può cambiare. E l'unica è appunto accettarla, accettarla chiaramente positivamente. Sono passato da non vedere al vedere e accettare, ma io accetto, accetto in parte, accetto in parte proprio perché poi, insomma, ritorniamo quella paura iniziale del cosa farà il futuro, che se quella è l'unica roba che non mi fa accettare le cose. Io mi sento ancora bambino nei suoi confronti. Cioè, non è che abbia preso chissà che coscienza. E sì, anzi, forse il contrario. Mi sono col tempo, tipo, non rassegnato, però distaccato. Infatti tante volte ho anche paura di mettermi in mezzo oppure di dire una cosa, no? Perché non sono capace, non sono formato. Non è che ho venti fratelli così, che sono cinquant'anni che... Sì, ma la consapevolezza non è una cosa... Cioè, secondo me è un po' un'illusione la consapevolezza. Perché cosa vuoi essere consapevole? Cioè, puoi essere consapevole degli aspetti tecnici della malattia. Secondo me c'è un po' di ipocrisia su questa consapevolezza. Perché... Perché tu sei consapevole di te stesso o tu sei consapevole di un fratello, diciamo, normale. Diciamo che la parte più difficile, forse almeno per me, è stata quando sono cominciate anche le crisi epilettiche. Allora lì, anche lì, quella cena là vicino che comincia a tremare. Ed è stato però un boomerang per tutti perché era una cosa nuova. Io mi ricordo questa cosa del tenerle la mano quando facevo una crisi epilettica. Mi ricordo che... Cioè, pensavo da piccolo che tenendole la mano gli facevo passare la crisi. Invece la crisi probabilmente passava per conto suo. Però... Si, c'era un po' questa idea qua. Ti chiedi sempre se hai una responsabilità in questa sua difficoltà. Io sono uno che un po' più si culpevolizza e magari le trovo, ma tutti un po' meno male si trovano magari qualche responsabilità. È un po' il discorso con la rabbia. Nel senso che fin quando c'era tanta rabbia ti dici perché. Perché sta male. Perché deve affrontare tutto questo da piccolo. Perché in sei anni, nei primi sei anni, un bambino deve affrontare undici operazioni. E lo vedi che ogni volta che fa un passo avanti, arriva un'operazione tra e indietro. Mi chiedevo sempre, guardandolo, come sarebbe stato se fosse stato normale, diciamo, parlare con lui. Perché infatti non ci siamo mai scambiati una parola, tranne che io gli parlo. Lui, vabbè, mi guarda, però non è che capisce. Scambiare delle parole, vedere cosa pensa, cosa... Tutto sarebbe stato... cioè, sarebbe tanto diverso, diciamo. E ogni tanto mi chiedo anche il perché proprio, diciamo, a mio fratello. Però, vabbè, capita, insomma, non solo a lui. Praticamente non c'è nessun feedback del fatto che mia sorella possa, tipo, percepire la presenza di qualcuno. O comunicare. O magari ti seguo quello sguardo. Perché non ti seguo quello sguardo? Cioè, dopo, anche mia mamma fa presto a dire... Ha sentito che sei arrivato, ma secondo me... no. Però, in realtà, magari sì. Però sì, da bambino mi ricordo il pensiero che potesse guarire o che potesse camminare, che un giorno magari comincia a parlare. Sì. Che poi, voglio dire, ci sono fratelli, sorelle, che magari non comunicano semplicemente perché, per vari motivi... la comunicazione alla fine è semplicemente, secondo me, una volontà di entrambe le persone di farlo. Poi, come lo si fa, questa è un'altra questione. Non è che ci sia un... un diverso da qualcos'altro, ma un diverso in quanto una persona è quello che è. perché le persone non sono abituate, forse in generale, a riconoscere le diversità in generale che riguardano qualsiasi caratteristica della persona. sia che nasca con una malformazione, sia che nasca con un piede storto, sia che nasca con uno specifico orientamento sessuale e così via, insomma. Quindi, in realtà, forse troppe domande per quale sia la causa della nascita di Petrice in questo modo, insomma, forse è anche un po' inutile. probabilmente le domande senza risposta cominciano ad essere un po' ingombranti, adesso come donne, forse, più che come sorelle o adolescenti, perché quando ti avvicini a certe tematiche come donna, come moglie e così, allora ti fanno gli altri specialisti delle riflessioni sulla tua famiglia così, però dici, ma... quando cercavo il perché spesso mi ritrovavo anche a lei a chiedermi, a chiederle direttamente il perché, ma... a insistere, ma dimmi di cosa hai bisogno, dimmi cosa ti serve, sei capace di parlare. Fin quando non mi sono reso conto che al dirle, ma sei capace di parlare, la bloccava nel parlare. Infatti, a volte mi piange un po', perché forse se l'avessi vista prima avrei potuto, per quanto poco, anche facilitarle l'esistenza, perché penso che sia quello, soprattutto, sarebbe bello per tutti noi che qualcuno ci semplificasse l'esistenza invece di complificarcela. E per persone che ce l'hanno già un po' più complicata è ancora più bello semplificarla. Poi se mi fermo anche adesso, dico il futuro, c'è paura che ci siano... ogni volta che fa una crisi, c'è tanta paura perché c'è stata la crisi. Come nella vita, come affronterà la vita nel senso, vivrà da sola, non vivrà da sola, vivrà sempre con i miei genitori, quando devono una famiglia cosa devo fare... queste cose mi spaventano un sacco perché... però... bisogna dargli una mano, bisogna dargli una mano. No, so che comunque io ci sono e anche già da adesso mi sono fatto l'idea che comunque, dopo un po', quando non ci sarà mia madre, sono io che lui starà con me a casa mia, cioè... mi sono già fatto l'idea di tutto questo. Me ne frega niente, cioè finché ho forza, finché ho vita, finché ho la possibilità, gli darò sempre tutto quello di cui ha bisogno. Ma... come si sente lei le tante cose? E' quello che mi fa più male, anche per quello che ti dico, se me la tocca non potrei fare una strage. Ma mi viene da ridere perché... già è un bradipo, cioè già ha l'atteggiamento da vecchio, cioè dorme tutto il giorno, mangia, fa poco sport, sta bene con i miei nonni, con i vecchi, perciò... me ne immagino così proprio come adesso, mi ha pedato. La pietrice è nata così, e... e penso semplicemente che ogni persona nasca così com'è, e quindi in realtà vive semplicemente le possibilità che ha nella sua vita, cioè tutti siamo limitati bene o male, nessuno può aspirare a fare qualsiasi cosa, ad essere pienamente magari la persona che desidera, o... e quindi sinceramente io vedo Beatrice che è molto più felice di altre persone, cosiddette appunto normali, diciamo così, e... perché lei è nata così, e... non... non si sono presentate altre... cioè altre strade, semplicemente ha accettato quello che... che le è arrivato, per carità è circondata anche da un sacco di belle persone, quindi... deve ritenersi fortunata, eh, per questo. appunto con questa cosa che lui dice, le cose che gli vengono in mente senza filtri, eh... riesce anche a fare emozionare, perché ti mette di fronte a quelli che sono i suoi sentimenti, eh... reali, a quello che veramente lui prova, e... in alcuni momenti, cioè... sicuramente questa è una dote che tante persone, diciamo normali, tra virgolette, assolutamente non hanno. Cioè io penso che... la sua personalità dovrebbe essere la personalità di ognuno di noi. E quindi... veramente sarà la personalità di ognuno di noi. Se io avessi avuto la sua personalità non avrei passato tre quarti della vita di merda che ho passato. Cioè a volte mi viene da dire, non sono loro ad avere dei deficit, siamo noi ad avere dei deficit, perché sarebbe tutto più semplice. Ma io penso che un ingrediente fondamentale, come famiglia, come comunque il nucleo che sta attorno a questa persona sia la determinazione. Secondo me ci vuole la collaborazione di tutti, in famiglia, e soprattutto inizialmente anche l'accettazione, l'amore, l'impegno, la determinazione da parte dei genitori, che è essenziale perché chiaramente io per esempio senza dei genitori con queste caratteristiche non sarei mai magari riuscita veramente ad accettare, e comunque ad amare, così come è mia sorella. Ho imparato anche ad essere positivo, diciamo. Non mi do tanti problemi su questo, diciamo che... Già pensato, non del tutto, però penso di farcela su tutto questo, cioè andare avanti. Ovviamente bisogna pensare di farcela, positivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I'm gonna tell you not to listen too much to me Fits you I hear, fits my dreams I fear The sun that's shining in my face Fits you I hear, fits a sweet fear I think I should tell you not to fear I think I'm gonna tell you not to fear I think I'm gonna tell you not to fear